Bene in trasferta, male tra le mura amiche, la Florigelandria di Danilo Danissi incassa la seconda sconfitta consecutiva casalinga per mano della Diaz Biceglie che sul parquet del Palacolombo di Ruvo di Puglia si impone con il punteggio di 5-3 dopo un match tiratissimo. Inizio di gara di marca biscelliese al nono e già a vantaggio bianco-rosso. Tortora serve sulla destra De Cillis che con un tocco morbido scavalca Camporeale in uscita. Landria non sta a guardare e pareggia i conti con un potente diagonale di somma che trafigge l'incolpevole Belsito. Al ventitraesimo però è nuovo vantaggio Diaz con Caggianelli che da banda sinistra infila Camporeale per il 2-1 dei biscelliesi. Nella ripresa la Florigel trova l'immediato pari con un tapin di Nicola Fiorentino ma tre minuti più tardi. È nuovo sorpasso Diaz con Palermo che sfrutta l'assist al bacio di De Cillis sul secondo palo. La squadra di Danissi soffre il pressing dei biscelliesi che trovano l'allungo e la rete del 4-2 con un tiro sul palo più lontano di Caggianelli. Prova a riaprire i giochi somma che sfrutta una corta respinta della difesa su calcio di punizione ma ad un minuto dalla fine la rete in contropiede di Caggianelli chiude definitivamente i giochi in favore della compagine di mister Di Chiano. Uno stop che lascia la Florigelandria a 14 punti in classifica e sabato prossimo sarà difficile trasferta sul campo del Dream Team Palo del Colle.